Questa è stata una vittoria del noi, questa è stata una vittoria di un'idea della politica progressista e democratica. Non sentirete mai da parte mia una parola individualista, questa è un'idea per me molto importante. Bologna, l'ho detto, è un grande noi stampato nella pianura padana e noi dimostreremo che Bologna è la città più progressista d'Italia, una città che metterà tutta la sua forza adesso a servizio delle persone che hanno avuto fiducia in noi, tante, che voglio ringraziare. Metteremo la forza di Bologna a servizio dei cittadini e delle cittadine che hanno paura, hanno paura dello sblocco degli sfratti, hanno paura dello sblocco dei licenziamenti, hanno paura di rimanere indietro. Ecco, Bologna è quella città che sarà al vostro fianco in qualsiasi momento, d'ora in poi, Bologna ci sarà perché Bologna c'è.